C'è disagio, notevole, e boh, vediamo come va, aumentiamo esperienza, punti esperienza. Impressioni per pista? Non fare la cacca. Solo? Sì, sono un po'. Oh my god! Vai vai! No, no, abbiamo già dato. Dai! No, non c'è un po' di cose. Mi rifiuto. Hai da box, Max. Max, impressioni per pista? Speriamo bene. Speriamo bene. Troppe saxo. Troppe saxo? Troppe saxo. Ma gli dai? Troppe chioiole RS. No! Che cosa va detto? Che cosa ha detto? Ho capito solo un aereo. Nghia! La tappo, forse. Sì. Impressioni dopo Maggione? Disagio estremo, stanchezza. E' stata una battaglia molto agguerrita. Ah sì? Sì. Ma ne sei uscito vincitore? Sì. Ah! Direi di sì. Ora la convergenza... Te invece? Va bene. Va bene. Beh, è già fatto molto. Sei uscito vincitore? Sì. Soddisfatto. Direttivo. Le gomme? Le gomme, bene. Consigliate a Massimo il Tanzaquattro. Massimo il Tanzaquattro. Massimo il Tanzaquattro. Aspetta! Massimo il Tanzaquattro con la 206 nera. Eh? Può comprare queste gomme, guarda. Buono. Consigliate da Max Ray. Sì. Impressioni dopo Maggione. Qualità? Qualità? Quanta qualità? Quali Lidl.